Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesa Channel. Oggi vi voglio parlare di due esempi recenti di comunicazione pubblica diametralmente opposti, molto distanti l'uno dall'altro, e che secondo me sono fortemente collegati. L'idea di questo video è proprio quella di collegarli. Voglio partire da un duro confronto sui social, leggo qui da questo articolo dell'inchiesta che vi linko in descrizione. Duro confronto sui social fra il dottore Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, e il giornalista delle Iene Dino Giarrusso, candidato alla Camera nelle liste del Movimento 5 Stelle. Stando all'articolo questo confronto si conclude con un tweet, pare sia stato molto aspro, questo confronto si conclude con un tweet di Burioni che dice Se parliamo di vaccini ci sono due possibilità. Lei si prende laurea, specializzazione e dottorato e ci confrontiamo. Oppure è più comodo per lei? Io spiego, lei ascolta e alla fine mi ringrazia, perché le ho insegnato qualcosa. Uno non vale uno. Ovvio frecciate, riferimento politico, dicevamo Dino Giarrusso, candidato alla Camera per i 5 Stelle. Questo modo di comunicare di Burioni è secondo me un problema, è non una soluzione, ma vanno fatte alcune premesse. L'epoca nella quale viviamo, vedi video di qualche giorno fa sulla Tesla e sull'autismo curato con la candeggina, l'epoca nella quale viviamo è sicuramente un'epoca in cui il pensiero scientifico, la mentalità scientifica, cioè quel tentativo di portare il metodo scientifico al di fuori del laboratorio e la storia dell'impresa scientifica sono ignorate da gran parte della popolazione ed è certamente un'epoca di rigurgito, di infatuazioni degne della stregoneria. Su questo non v'è dubbio, conoscete perfettamente la mia posizione, credo che la conoscenza dell'impresa del metodo scientifico dovrebbero essere il cardine più importante della cultura generale di chiunque di noi oggi. Questa è la mia idea, figuratevi. E non v'è dubbio dal mio punto di vista che intorno alla questione vaccini, ed essendo dal mio punto di vista l'antivaccinismo un movimento molto molto pericoloso per tutti, non solo per il merito dei vaccini ma per quello che legittima e giustifica, e non v'è dubbio che intorno al merito della questione vaccini Roberto Burioni abbia ragione e sappia ciò di cui parla, e non v'è dubbio al tempo stesso che viviamo in un'epoca in cui la figura dell'esperto è destituita apposta e volutamente di ogni autorevolezza, tanto più che si arriva a considerare la versione ufficiale dei fatti, sempre da parte di alcuni, come quella da considerare non attendibile, e l'esperto del campo, l'ultimo pare addirittura che possa dire qualcosa intorno alla materia che invece, a differenza di suoi interlocutori che si intendono d'altro, conosce perfettamente. Però manca qualcosa all'approccio di Burioni ed è così manchevole questo suo modo di comunicare da risultare problematico proprio per ciò che dovrebbe corroborare, che dovrebbe rafforzare, cioè l'accettazione e conoscenza dell'impresa scientifica del suo metodo presso la popolazione che si occupa di altro. Uno non vale uno, dice Burioni, e questo è sempre vero e sapete che lo penso anch'io, in qualunque declinazione tecnica o particolare noi andiamo a confrontarci, non è mai vero che uno vale uno, ed è bello che sia così, ed è giusto che sia così, è una celebrazione dire uno non vale uno della diversità, della libertà di ciascuno. La biografia di ognuno di noi ci porta ad essere, tanto più rispetteremo il nostro amor proprio e le nostre attitudini, qualcosa di totalmente diverso dagli altri, quindi avremo ambiti nei quali siamo un pochino più preparati di altri e infiniti ambiti, stante la nostra socratica ignoranza, in cui dovremo davvero ascoltare quello che ci dicono gli altri o comunque farci un bel mazzo per recuperare il gap, nel caso. Questo è certamente vero, ma c'è, nonostante questo, un uno vale uno che mi interessa molto e che emerge dal monologo di Favino, che mi interessa molto e che condivido, e che emerge dal monologo di Favino, l'avete visto, a Sanremo molto probabilmente, sta comunque in cima alle tendenze di YouTube, per mia grande contentezza, devo dire, il bellissimo monologo di 4 minuti e qualcosa di Favino tratto dallo spettacolo teatrale che sta ora lui portando in giro, quindi non è che se l'hai preparato per Sanremo come avevo pensato io all'inizio, sarebbe stata una cosa ancora più straordinaria, in ogni caso è una performance incredibile da un punto di vista attoriale, monologo sulla figura dello straniero, sulla xenofobia, sul razzismo, un monologo toccante, assolutamente commovente, che ha la intelligenza, secondo me, di non idealizzare la figura dello straniero, niente affatto, anzi di restituircela, molto simile a quella che conosciamo tutti i giorni, anche nel linguaggio e nell'intonazione, e consentendoci da questo punto di empatizzare con essa, non solo perché la riconosciamo, ma anche perché riusciamo comunque ad identificarci, perché in qualche modo l'esperienza dello straniero escluso e vittima di razzismo e di ghettizzazione e quant'altro è un'esperienza che viene dal monologo anche universalizzata e ci porta a ricordare tutte le volte che stranieri lo siamo stati noi, non stranieri nel senso che siamo andati in Francia o negli Stati Uniti, ma stranieri nel senso che siamo stati esclusi, siamo stati respinti da una qualche forma di pregiudizio, ma ripeto anche a livello sociale, lavorativo e di relazioni, è molto facile empatizzare con il personaggio portato in scena da Favino, perché non è idealizzato e perché siamo noi. Ovviamente Favino non parla di dati, non parla di fatti, non parla di numeri, di fatto non sviluppa neppure un'argomentazione, il monologo di Favino ci è utile fino a un certo punto per discutere del problema assolutamente pressante che viviamo in questo momento dell'immigrazione, del razzismo e quant'altro, il monologo di Favino è assolutamente insufficiente da questo punto di vista, è soltanto una tirata emotiva che ci stringe il cuore, se vogliamo dire così. Eppure, secondo me, è importante, anche se ovviamente manchevole, ma non ha quell'altro scopo, è importante perché getta una premessa, ed è la premessa dell'empatia, del vedere nell'altro noi stessi. Una premessa di uno vale uno che poi nelle varie declinazioni non sarà mai tale, uno non vale uno in nulla in realtà, ma serve per ricordarci che l'altro è lo stesso, che tu ed io possiamo riconoscerci come lo specchio l'uno dell'altro, serve nel ricordarci che la tua tragedia è la mia tragedia, che i tuoi drammi sono i miei potrebbero esserlo o lo sono stati, e serve quindi a ricordarci che siamo umani, e quindi esiste come un uno vale uno sostanziale che precede tutti gli ambiti della vita sociale, delle tecniche e quant'altro, dove invece uno non vale mai uno. E questo ponte è la premessa di qualunque discussione intorno a qualunque tema, una premessa fondamentale per impedirci di sentirci superiori al nostro prossimo da un punto di vista sostanziale. Perché nella retorica del messaggio di Burioni c'è un implicito, secondo me è evidente, il mio saperne di più di vaccini fa di me una persona superiore a te. Certo lui non lo dice, non lo direbbe mai, ma questo lui comunica, forse ingenuamente, forse nemmeno rendendoseli conto. Esiste un'aggressività, una spocchia, che hanno un effetto secondo me del tutto controproducente per la sua causa, che proprio questo comunicano. C'è un gusto nel messaggio di Burioni, e vado proprio a prendere il messaggio di uno scienziato, quindi una posizione a cui mi sento assolutamente vicino, perché è lì che conta farlo, sarebbe più facile parlare di qualunque razzista della politica in questo momento, invece mi interessa proprio andare da Burioni. C'è un messaggio di superiorità, che è una premessa drammatica a qualunque forma di comunicazione. Quando lui dice uno non vale uno, è certamente vero quando parliamo di immunologia, io non valgo Burioni e non mi sogno neanche di pensarlo, ma c'è un sostrato, questo gusto sadico nell'infierire, del quale probabilmente non si rende neppure conto, smotta l'uno vale uno fondamentale di cui invece parla, o comunque che ci porta a favino. È questo il problema della comunicazione di Burioni, oltre al fatto che secondo me è assolutamente inefficace e li crea gli antivaccinisti un modo di comunicare come questo. Perché se tu ti preoccupi quando comunichi con gli altri soltanto di dare un colpo di figaggine alla tua parte, umiliando l'altra, l'altra si incazza ancora di più, si inasprisce ancora di più, quindi secondo me è del tutto controproducente. Ma da un punto di vista di principio, proprio Burioni, sarebbe facile, ripeto, riferirsi al razzismo della politica di questi periodi, è proprio Burioni a creare quella simmetria base per cui loro non sono come noi. Cosa fa Favino? Favino ti ricorda con quel monologo che l'uno vale uno sostanziale dell'umanità è la premessa di qualunque discorso. Favino non sviluppa nessun discorso, ma ti dice vogliamo parlare di qualunque cosa? Ricordiamoci che siamo umani. Poi ci sono i numeri, i dati, che sono stampelle fondamentali dell'argomentazione e ci saranno opinioni divergenti e la situazione è molto complicata, pensiamo all'immigrazione, pensiamo agli stranieri irregolari in Italia, eccetera. Ma ricordiamoci che siamo tutti umani, altrimenti si giustifica il razzismo, che a sua volta non è argomentazione, se c'è un argomento anzi antiscientifico è quello del razzismo, altrimenti si giustifica la xenofobia, altrimenti si giustifica la paura del diverso come stura delle decisioni politiche. Ricordiamoci che siamo umani, che l'altro è lo stesso. L'empatia termine oggi schifato da alcuni che si sognano superiori agli altri, magari per il colore della loro pelle. L'empatia, il rispetto, la gentilezza reciproche sono la premessa fondamentale di qualunque dialogo. Viceversa non c'è dialogo, ma solo un confronto penis, non so se si può dire così, fra due fazioni che si odiano e volentieri si prenderebbero a cazzotti in faccia. Ed è interessante che sia mostrato proprio non idealizzando la figura dello straniero, rendendola molto simile a ciò che è davvero, ma anche nella sua disperazione. In Burioni invece si comunica, ripeto, non so quanto consapevolmente, non so quanto sia ingenuo, mi sembra molto, Burioni da un punto di vista della comunicazione pubblica, si comunica una asimmetria che a rigore è soltanto intorno alla questione dei vaccini, dove è giusto che ci sia, perché è vero che l'esperto è esperto e che non è una ricerca su Google che ti colma il gap di dieci anni di studio accademico e universitario, ci mancherebbe altro, ma sottilmente sì. Nel tentativo di umiliare il prossimo ci si dimentica della premessa che possiamo vedere in favino. Se io voglio convincere un antivaccinista di base, gli devo mostrare rispetto e gentilezza, perché tu ed io siamo umani entrambi. Magari io, non io, ma io Burioni, sono super esperto di vaccini, quindi in questo ambito ti chiederei di ascoltarmi, ti chiederei di sentire le mie buone ragioni. Ma ei, fratello, siamo uguali. La tragedia, la drammaticità, il senso drammatico della vita che mancava al Mike Buongiorno di Umberto Econo, il dramma è lo stesso, stiamo vivendo lo stesso dramma e quindi la fratellanza deve essere in qualche modo la premessa di una discussione, discussione nella quale poi i fatti saranno importanti. Ma Burioni, tra le ingenuità che io posso notare nel suo modo di fare comunicazione pubblica, c'è anche quella epistemologica drammatica di pensare che i fatti parlino da soli, di pensare che i dati parlino da soli, che è terribile. Non è mai così. Ed è proprio per questo che Paolo Rossi, nel suo libro che vi consigliavo l'altra volta, la nascita della scienza moderna in Europa, mette in guardia, dal dare per scontato il progresso, dal dare per scontato che l'impresa scientifica andrà sempre bene e andrà tutto perfettamente. C'è la questione morale evidentemente da ricordare sempre all'interno dell'impresa della scienza, ma c'è anche la possibilità, vedi l'autismo curato con la candeggina, che domani l'impresa scientifica sia il passato. Siamo sempre in tempo per vivere un mondo post-atomico alla Mad Max o alla Kenshiro, ok? E quindi il ponte empatico, quell'uno vale uno premessa, che poi non è tale nelle varie declinazioni, non lo possiamo rimuovere, perché creiamo scontro e nel dare alla nostra fazione, anche la nostra fazione che io ritengo abbia ragionissima in questa questione, nel dare alla nostra fazione che si batte il 5, ehi quello l'abbiamo umiliato, beccati l'ultimo tweet di Burioni, nel dare questa sensazione stiamo creando una simmetria di un gruppo che si ritiene superiore all'altro e che quindi in qualche modo, magari non parlando di vaccini, ma non è una traslazione campata in aree, in qualche modo dell'altro può disporre o ritiene di poter disporre. Le premesse di Burioni, ripeto, non so quanto consapevoli da parte sua, sono le premesse del razzista. Quando io voglio giustificare il mio comportamento disumano nel confronto di un'altra persona, ho bisogno di pensare che io sono superiore a quella persona, così potrò assolvermi o essere una persona crudele, e potrò chiamare la mia crudeltà superiorità. E poi i problemi, i dati, arrivano, ma prima siamo umani. Ecco perché ritengo molto pericoloso il modo di comunicare di un Burioni, e perché mi interessa metterlo in luce proprio in un ambito dove gli do ragione tutta la vita, ma ci mancherebbe altro, anche perché la scienza non è democratica, e siamo d'accordo, uno non vale uno in un ambito tecnico, ma in tantissimi ambiti, in ambito artistico, nell'ambito della comunicazione, uno non vale mai uno, ma siamo comunque in democrazia. Attenzione, il tuo interlocutore è un candidato. Persuadere deve essere la tua ansia, la tua unica ansia, nel senso di il tuo unico scopo se fai comunicazione in pubblico. Non hai nessun bisogno di dire i vaccini funzionano così e così, lo sappiamo già tutti. Quello è sapere accademico, ma il sapere accademico ha la necessità di persuadere gli altri, sennò diventa un sapere di un settore che a un certo punto potrebbe avere le fiaccole degli antivaccinisti a circondarlo, e allora hai voglia ad avere ragione. Era meglio persuadere. Persuadere non è cercare così di nascosto, di imbonire. Persuadere è l'atto più nobile, è l'atto principale di rispetto del prossimo. Io cerco di persuaderti se ho rispetto di te, se mi disinteresso del persuaderti vuol dire che per me tu non sei più un interlocutore. E quindi io ho il dovere di cercare di persuadere gli altri e di scendere a patti con quelle che sono le regole della comunicazione pubblica, e in realtà con quell'uno vale uno, che è fondamentale per creare un ponte empatico, che è fondamentale per far sì che tu almeno mi ascolti, perché hai capito che non mi sento superiore a te, ma sono sulla tua stessa barca, solo credo in questo ambito di sapere due cose, e tu in un altro ambito me ne insegnerai altre due. Dov'è l'ignoranza socratica? Che fa sì che le tre cose che sappiamo in un ambito non ci salvano minimamente dal fatto di essere degli ignoranti abissali, no? Dov'è finita? E quindi vedete, leggendo Anna Arendt, leggendo le origini del totalitarismo, tu scopri che cosa vuol dire declassare l'altro a un po' meno umano di te. Ripeto, la cosa che mi preoccupa è che questa sia un'ingenuità da parte di Burioni, cioè la sensazione che mi dà è che lui non ne sia minimamente consapevole, lui non si rende conto dei messaggi che veicola, lui pensa di veicolare dati ed informazioni sulla questione vaccini, e certamente lo fa, ma non puoi trascurare lo stile del tuo messaggio, non puoi trascurare la sua retorica, non puoi trascurare le emozioni che suscita, perché ci piaccia o non ci piaccia sono molto più importanti dei dati, proprio perché i dati o i fatti, diciamo che ci sono i fatti e poi i dati, non parlano da soli, i dati sono una pertinentizzazione dei fatti in qualche modo, non parlano da sé, c'è la tua voce che li fa parlare, e la tua voce la devi modulare a seconda del tuo uditorio, uditorio o auditorio? Auditorio, scusatemi, o forse si può dire in entrambi i modi, me lo direte nei commenti. E questo è il punto. Quindi c'è una presunzione che palesa un'ingenuità di fondo drammatica, un'ingenuità di fondo da un punto di vista della comunicazione pubblica, per uno che fa comunicazione pubblica, che vende libri sulla base della sua aura carismatica, ok? Questa è irresponsabilità pur in un'epoca in cui sono il primo a dire che una delle tragedie della nostra epoca è la ridicolizzazione della figura dell'esperto, è l'esautorazione della figura dell'esperto dagli ambiti nei quali proprio a lui dovremmo rivolgerci. Stante il fatto che nessuno di noi può sapere tutto di tutto e che il 99% della nostra conoscenza noi siamo tenuti a delegarla, 24, non è solo il numero di Kobe Bryant, ma sono le ore di una giornata, quindi stante il fatto che non potremo mai andare a ricercare tutte le fonti e tutte le informazioni di tutto ciò di cui ci occupiamo, rivolgerci all'esperto, avere dei criteri che fanno sì che una persona possa essere ritenuta tale, non ci dà certezze, ma ci aiuta moltissimo. Proprio per questo la versione ufficiale che molti a priori considerano il male è invece di solito qualcosa a cui affidarsi, poi a seconda che un ambito ci interessi particolarmente si va ad approfondire, si va a studiare, sempre ricordandosi che è vero che non è una ricerca su Google che colma un gap di 10 anni di studio tecnico e molto difficile, ma ci mancherebbe altro. Ma poi se la stregoneria con le fiaccole e i forconi circonderà gli istituti di ricerca, le università, sarà forse perché questi istituti di ricerca e queste università, scherzo, l'esempio è soltanto quello di Burioni, speriamo che rimanga, soltanto quello, pensavano che bastasse avere ragione. Che illusione, che ingenuità. Vi ringrazio ragazzi, questa era la chiacchierata di oggi e ci vediamo a un prossimo video.